È una vittoria molto importante in un momento delicato, magari potremmo fare qualcosa di più, ma sono molto contento di pensare al prossimo partito. Si soffre sempre, ma credo che la squadra... Abbiamo soffritto, ma credo che l'equipo non ha riesgato a niente e l'equipo è stato molto concentrato durante tutto il partito. Nel secondo tempo la squadra è stata molto concentrata. L'arbitro può sbagliare, lo dobbiamo accettare sempre. L'arbitro si può equivocare, ma noi dobbiamo accettare le equivocazioni. La verità è che, da qui in Sevilla, l'arbitro si è equivocato molte volte, ma è così, solo dobbiamo accettarlo. Anche nell'ultima partita, l'accetto, se si devono accettare gli errori degli arbitri. No, la squadra ha giocato bene, Arana ha fatto una... L'equipo ha fatto un gran partito e creo che Arana ha fatto un partito eccellente, soprattutto che ha stato il primo partito come titolare. E credo che la defensa ha fatto un gran partito, perché erano tre nuovi giocatori, che era la prima volta che giocavamo. Sono molto contento con questo. e la difficoltà era alta. Pian piano cerchiamo di inserire tutti i giocatori.